Un'altra proprietà appariscente da Berry Plant. Riuscite a immaginarvi a vivere qui? Questa casa attraente offre gradevole e confortevole soggiorno per la vostra famiglia. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Godetevi le lunghe giornate estive al bordo della vostra piscina. Mettete questa proprietà al primo posto della vostra lista. Chiamate ora per fissare un appuntamento.